eccoci e bentornati sul mio canale iniziamo con gli approfondimenti sulle mappe multiplayer perché il profilo di call of duty ha svelato la mappa ardenne mappa multiplayer che è possibile provare alle 3 2017 ovviamente per i fortunati che si trovano all'evento questa mappa ovviamente è ambientata in germania è un accampamento tedesco che si trova nella foresta delle ardenne ovviamente la troveremo innevata e il tutto accadrà durante la battaglia di burg in questa mappa come potremo vedere ci saranno scontri sia a corto che a medio raggio troveremo non soltanto dei passaggi attraverso le rocce e la foresta ma ci saranno anche delle strutture fisse come delle case dove combattere per questo troveremo combattimenti a corto e medio raggio questa appunto è la mappa ardenne svelata con un trailer dal profilo ufficiale di call of duty fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo con tanti nuovi video e noi ci vediamo con tanti nuovi video